Ciao a tutti, oggi vediamo insieme degli esercizi con un bilanciere libero, però il bilanciere è incastrato, fermato tra due rischi, quindi questo lavoro si chiama Land Mine, noi vedremo workout e 4 esercizi, sono abbastanza difficili perché per stabilizzare il lavoro con bilanciere bisogna lavorare tanto con l'addome, quindi oltre a un fatto di gambe e di spalle, lavora tanto il cuore, la parte centrale del corpo. Primo esercizio, Land Mine Kneeling Press, è un press per terra, appoggio il ginocchio per terra, la mano che non lavora è meglio se la tenete a pugno, questo vi aiuta ad avere maggiore forza, è importantissimo contrarre gli addominali per stabilizzare il lavoro se non riesco a dare una linea al movimento e poi spingo verso l'alto, iniziamo dal braccio più debole e facciamo 8 ripetizioni e poi cambiamo l'alto. Secondo esercizio, Midos Row, è una variazione del prematore, bisogna cercare di stabilizzare bene il conflusto, di mantenere un equilibrio con i piedi, la schiena è parallela al parimento e il comico scorre con i fianchi. Quando scendono, distendo bene il braccio. Arriviamo alla seconda parte del nostro workout, lavoriamo sulla parte inferiore del corpo, One Leg Romanian Deadlist, lavora la parte dietro delle gambe e i punti. Molta attenzione alla postura della schiena, tengo il petto alto per tutta la fase del movimento, parto con tutti e due piedi per terra, ovviamente il movimento è con solo una gamba, quindi la gamba che mi dà equilibrio si alza, l'alzo fino più o meno all'altezza dei cluti e poi mi riabbasso. Quando torno nella seconda fase del movimento, il petto guarda sempre in avanti e il bilanciere tutto per terra. Ultimo esercizio, quarto esercizio, affondi dietro con una gamba, tengo il bilanciere centrale, faccio un passo bello lungo dietro, tocco sempre col ginocchio per terra senza appoggiarlo, tocco e risalto. Sempre la stessa cosa, teniamo attiva tutta la parte del core in modo da non cedere in avanti durante il movimento. Sempre otto ripetizioni da una parte, poi cambiamo lato e otto dalla parte sinistra. È finito il nostro workout, una cosa tenevo a dirvela, questo non è tutto il mio allenamento, l'allenamento di forza che faccio solitamente è fatto da esercizi diciamo principali come il deadlift, non squat per la parte sotto e poi altri come la panca, le trazioni per la parte alta. Quindi questo workout io lo tengo come unwrap nella parte finale, quindi faccio più ripetizioni possibili, in questo caso in un tempo di 15 minuti. Quindi facciamo questi esercizi di fila, quattro esercizi, otto ripetizioni per lato, unwrap, 15 minuti. Una domanda che mi fate sempre è quante volte a settimana devo fare questo workout. Il workout come vi ho fatto vedere oggi va fatto una volta a settimana. Il resto della settimana devo allenarmi in modo diverso, se voglio rendere più fisico e più brato e fare una programmazione coerente e mirata. Per aiutarvi in questo senso cercherò di darvi il workout possibile in modo che la vostra struttura di allenamento settimanale sarà fatta almeno di quattro workout differenti. Spero di essere stata chiara, per qualsiasi domanda, dubbio o richiesta, mandatevi una mail info-staraventura.com. Grazie a tutti.